Il credente può dire di essere felice, ma perché può dirlo? Forse perché non ci sono guerre in questo mondo, forse perché non ci sono ruberie, ladri, forse perché non ci sono inganni, non ci sono oltraggi, persecuzioni. Perché il credente allora può dire di essere felice? Semplicemente perché ha Gesù nel proprio cuore. Di cosa sei irritato? Perché questo malcontento? Perché è questa insoddisfazione? Cos'è che ti manca? E tutto dipende dalla condizione spirituale in cui viviamo, dalla comunione che noi abbiamo col Signore e in primis ritorna sempre il tema della fede, della fiducia che noi abbiamo in Dio. Quando ci lamentiamo di qualcosa, ma vogliamo riconoscere che Dio ha autorità su tutto e su tutti gli uomini? E vogliamo confidare Lui sapendo che Lui ci ama e non ci abbandonerà mai? È ovvio, se guardiamo alle circostanze, alle situazioni di questa vita, è ovvio c'è da rimanere scontenti di tante cose. Però la parola di Dio ci ricorda che il credente non può vivere in questo stato. Perché Lui ha riposto tutta la sua fiducia in colui che non lo lascerà e non lo abbandonerà mai. Il Signore è misericordioso, è lento all'ira e di gran benignità. Quando pensiamo il male per qualcuno, ricordiamoci che Dio non la pensa come noi. Dio vuole che vinciamo il male con bene. Ed è questa la posizione che Dio ha avuta per ciascuno di noi. Il Signore doveva giudicarci, doveva condannarci. Non potevamo avere più comunione con Lui, ma ha usato quella misericordia che per noi è incomprensibile. Ha mandato il suo unigenito figlio sulla croce a morire affinché noi fossimo riconciliati con Lui. E non è questa la garanzia che dovrebbe darci una piena soddisfazione di cuore, uno stato d'animo perennemente contento, che non dipende dalle circostanze, non dipende dalle circostanze. Tutto questo non dipende, non è influenzato da circostanze esterne, perché la grazia di Dio opera in modo efficace nella nostra vita. Il Signore ci invita ad andare a Gesù. il Signore ci invita a fare questo passo di fede, a credere che in Dio troviamo tutte le garanzie della nostra vita. E il nostro futuro è un futuro glorioso in Cristo Gesù. Grazie.